Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. La famiglia reale sta attraversando un momento davvero difficile. Oltre al tumore alla prostata del re Carlo III, anche la principessa Kate si trova ad affrontare una battaglia contro il cancro. Le notizie sulla sua salute sono a volte nel mistero, nonostante abbia annunciato di aver subito un intervento all'addome e di essere ora in chemioterapia. Ma le voci non si placano. È in questo contesto che interviene Amaia Arrieta, una figura molto vicina alla famiglia reale, nota per aver curato il guardaroba dei piccoli George, Charlotte e Louis nel corso degli anni. Amaia, che ha lavorato a stretto contatto con la tata dei bambini, Maria Teresa Turion Borrallo, si è aperta al telegraf, esprimendo il suo dolore. Stanno vivendo un periodo di grande difficoltà. Kate ha sempre apprezzato il talento di Amaia nel vestire i suoi figli per le occasioni ufficiali, un gesto che ha reso entrambe le donne legate da una sorta di complicità. La stilista svela un aneddoto emozionante sulla prima volta in cui ha visto il piccolo George indossare uno dei suoi abiti, mentre il silenzio continua a regnare riguardo alle condizioni di salute della principessa Kate.